Le recenti giornate del FAI di primavera sono state un successo. Migliaia i visitatori che hanno affollato i siti aperti per l'occasione, come la Abbazia del Loreto e il Santuario di Montevergine, a guidare i turisti ciceroni d'eccezione come gli studenti del liceo Publio Virgilio Marone di Avellino. All'oro all'interno dell'alternanza scuola-lavoro è stato consegnato il riconoscimento di ambasciatori del proprio territorio. Il presidente della provincia, Biancardi, ha ricordato l'impegno di Palazzo Caracciolo sul fronte della cultura, del turismo e della promozione del territorio con l'istituzione di una fondazione i cui fondi saranno appostati nel bilancio che presto sarà approvato. Il Fondo Ambiente Italiano, ha detto Biancardi, fa quello che dovrebbero fare le istituzioni. Dobbiamo colmare questa carenza soddisfatta da delegata dei giovani FAI. Gli Irpini conoscono abbastanza il loro territorio? No, nel senso che molto spesso si partecipano gli Irpini ma devo dire c'è una carenza da parte della provincia di Avellino nella partecipazione. Molti vengono soprattutto dalla provincia di Napoli o dalla parte dell'Avellinese più vicino al Nolano e quindi alla provincia di Napoli. Molti visitatori vengono anche da fuori regione, moltissimi dalla Puglia. Abbiamo spesso anche comitive di stranieri che partecipano però comunque diciamo si sta diffondendo molto di più la parola del FAI. Questo sicuramente grazie anche alla diffusione, alla comunicazione a livello nazionale che il fondo chiaramente utilizza durante tutto l'anno. Sicuramente posso dire che negli ultimi quattro anni in cui io sono delegata FAI giovani il gruppo sia di volontari che di partecipanti alle manifestazioni sta crescendo. Quindi questo ci inorgoglisce perché ci fa capire che la direzione in cui stiamo andando è quella giusta e quindi continueremo su questo percorso. Grazie.